La Società Italiana di Statistica ha sempre creduto molto nella giornata nazionale e europea in onore di questa disciplina della statistica e ha sempre partecipato e supportato iniziative che promuovessero la cultura statistica nel nostro Paese e nel resto del mondo. In particolare le Olimpiadi della Statistica sono un'iniziativa a cui la società tiene molto e che coinvolge tutti gli anni diverse migliaia di studenti nelle scuole secondarie superiori. Quest'anno le Olimpiadi sono la porta per accedere alle Olimpiadi europee di statistica che sono un'iniziativa importante coordinata dall'Istituto Nazionale Spagnolo di Statistica e promossa dalla nostra società che insieme all'Istat ha organizzato l'evento per il prossimo anno le iscrizioni verranno fatte entro la metà di gennaio, quindi invito tutti a promuovere l'iniziativa e a iscriversi o a far iscrivere figli e ragazzi.